bentornati amici bentornati con un altro video ripartiamo dall'inizio eccoci qua mentre a roma oggi c'è un tempo da lupi continuiamo a seguire le vicende di quello che io avevo all'inizio chiamato un po magistratura gate ora ho visto che i giornali hanno trovato un titolo più corto e più accattivante quello che ormai è chiamato il csm gate siamo di nuovo sul tweet ultimamente molto attivo di anzi direte il nostro amico il dottor giulio senza nominarlo perché ho visto che il cognome non è gradito a youtube che insomma evidentemente non ama che si parli troppo di certi argomenti invece torniamo di nuovo appunto a vedere cosa scrive vedete che ci parla di un altro pezzo di questa tutta questa saga della giustizia italiana e dei suoi colonnelli di sinistroi diciamo dice così e ci cita un articolo che io ho già aperto qui vedete il csm usato dalla sinistra politica giudiziaria eccolo qui lo andiamo a ritrovare lo stesso articolo come arma contro gli avversari non è una notizia ma ormai dice l'articolo una conferma leggiamo un pezzettino perché davvero fatto molto bene per riassumere un po la situazione quindi per non leggerlo proprio tutto quanto diciamo che appunto dopo le indagini e le intercettazioni trapelate dalla procura di perugia è iniziato uno scandalo che come sapete coinvolge diversi personaggi compreso questo molto chiacchierato ultimamente magistrato palamara ma vedremo di capire la notizia per bene vedete ieri è emerso come il csm l'organo costituzionale di autogoverno della magistratura sia stato piegato agli interessi di bottega di una parte politica il partito democratico con la complicità dei magistrati amici non è una novità è così da 40 anni ma il modus operandi ora è nelle cartelle di inchiesta non ve l'ho citato questo è un articolo che trovate su atlanticocotidiano.it e ci fa questa riflessione un vice presidente del csm di provenienza politica partito democratico lo stesso del presidente della repubblica avrebbe orchestrato insieme a un consigliere sempre del csm leader dell'unico ed ex presidente dell'associazione nazionale magistrati un attacco coordinato contro il ministero dell'interno che era salvini e leader del principale partito avversario finalizzato a legittimare un intervento dello stesso csm dietro il solito paravento dell'indipendenza a sostegno dell'indagine sulla nave diciotti e poi vedete appunto il csm utilizzato per attaccare l'avversario politico fermiamoci un attimo qui per vedere qual era il caso diciotti velocissimamente per chi non lo ricordasse il caso diciotti riguarda una nave di in realtà della guardia di finanza che aveva accolto in data ecco 16 agosto 2018 non c'è più di 100 insomma quasi 150 migranti ora lo leggiamo eventualmente e c'era stata tutta la diatriba che vedeva proprio coinvolto salvini che sostanzialmente non voleva se vi ricordate era il periodo in cui si stava impuntando su questa eccessiva immigrazione lui non voleva far sbarcare questi migranti poi ci fu invece un'autorizzazione a farli sbarcare come vedete si tirano in ballo per qualche giorno dal 16 agosto in cui la finanza prende questa scusate chi era la guardia costiera ora lo leggiamo per bene perché andavo a memoria ecco soccorrono 190 migranti la guardia costiera per cinque giorni l'imbarcazione rimane ferma alcuni vengono fatti sbarcare solo 13 perché erano malati e poi il 20 la nave si sposta verso Catania però vedete ecco tramite Salvini Danilo Tonnelli del ministero dei trasporti nega l'autorizzazione e lasciano 177 migranti a bordo della nave ma Salvini appunto dice che si dovevano pensarci anche gli altri stati europei perché c'era una richiesta internazionale di protezione eccetera il 22 agosto fanno scendere altri due minorenni ne lasciano altri 148 che sbarcano alla fine solo tra il 25 e il 26 tutto questo ha portato un signore che è un magistrato a fare un'inchiesta dicendo che eccolo qui il PM Luigi Padronaggio dicendo che Salvini aveva fatto addirittura abuso d'ufficio sequestro di persona perché non aveva fatto sbarcare questi migranti eccetera eccetera quindi questa è la vicenda della nave 18 quindi torniamo qui appunto per a sostegno tutta questa vicenda cioè tutti questi inciuci di magistratura venivano fatti per sostenere l'indagine su questa vicenda della nave 18 è quanto emerge dagli ultimi messaggi della chat di Luca Palamara sotto inchiesta a Perugia e pubblicate ieri dal quotidiano La Verità che spiegano forse quell'imbarazzante scambio di messaggi tra Paolo Auriemma capo della procura di Viterbo e lo stesso Palamara che si dicevano per telefono l'incriminazione di Salvini per il caso 18 è indifendibile sosteneva Auriemma e Palamara risponde hai ragione ma adesso bisogna attaccarlo una incriminazione giuridicamente indifendibile e ideologicamente motivata come spiega Fabrizio Borasi per alcune motivazioni che appunto qui vengono poi elencate se volete vi andate a guardare l'articolo e potete entrare nel dettaglio però ci dice ora forse sappiamo perché perché c'erano degli ordini superiori siamo nell'ultima settimana di agosto 2018 quando si apre il fascicolo per la nave 18 e si ipotizza il sequestro di persona poi alla fine invece anche se viene aperto il fascicolo contro i gnoti ovviamente si parla di Matteo Salvini e si dice vedete il 24 agosto come riporta la verità l'allora vicepresidente del CSM Giovanni Legnini sottosegretario in due governi a guida PD voluto da Matteo Renzi ai vertici del CSM scrive al consigliere Paramara Luca domani dobbiamo dire qualcosa sulla nota vicenda della nave so che non ti sei sentito con Valerio altro consigliere del CSM autonomia e indipendenza hanno già fatto il loro comunicato area che è un'altra corrente di sinistra è d'accordo a prendere un'iniziativa anche Galoppi che è un altro consigliere è d'accordo senti tutti questi e domani mattina fammi sapere e Palamara risponde ok anche io sono pronto ti chiamo più tardi e ti aggiorno e insiste ancora Legnini sì ma domani mattina dovete avere fatto questa nota insomma qualcosa fatemi sapere a quel punto Palamara scrive a fracassi e i due si incontrano dobbiamo sbrigarci dice hai già preparato una bozza di richiesta prima di parlarne agli altri concordiamola noi insomma vedete che c'è proprio un tema di piccola cricca ecco sembra proprio un clima di tutti i sotterfuggi poi appunto alla fine il 25 agosto danno la notizia quattro consiglieri del CSM chiedono di inserire il caso 18 in particolare le parole del ministro Salvini nel fascicolo di Agrigento insomma alla fine cercano di mettere Salvini sotto queste accuse dicendo la verifica del rispetto delle norme è doverosa nell'interesse delle istituzioni insomma succede tutto questo quando poi invece c'è in realtà possiamo andare a vedere anche una risposta di Salvini che vedete rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini e gli italiani ne sono orgoglioso eccetera eccetera quindi poi un po' come se volete parafrasando un po' le vicende d'oltreoceano poi le cose si rigirano ed è qui Salvini alla fine che viene scagionato perché in sede di senato eccetera vengono archiviate le accuse contro cioè non prese in considerazione sostanzialmente ritenute non legittime le accuse contro Salvini ed è poi alla fine Salvini che rigira la questione vedete ringrazia di essere stato alla fine assolto diciamo da queste accuse e si rivela di fare il contrario cioè di poter eventualmente vediamo se vi trovo dove era c'era un punto in cui aspettate che ve lo trovo mi arrestino pure dice ecco vedete ne sono fiero e fa l'esempio del ponte Morandi in cui dice nessuno è stato indagato indagano me per aver cercato di difendere i confini e di non fare entrare questi qui e lui dice che potrebbe esserci addirittura al contrario un'indagine per questi magistrati come Luigi Padronaggio per favoreggiamento invece dell'immigrazione clandestina quindi ha girato in un certo senso la vicenda e vediamo chi è questo Luigi Padronaggio il PM che appunto si scagliava tantissimo contro Salvini vedete succede poi un'altra vicenda più avanti con lo stesso personaggio magistrato Petronaggio succede che più avanti nel tempo dopo questa vicenda Matteo Salvini si trova da Giletti a parlare in televisione quando Giletti legge la notizia in diretta che la guardia costiera e la guardia di finanza di Palermo di Lampedusa hanno eseguito nel pomeriggio un sequestro della nave Sea watch e per violazione bla 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 degli articoli dell'immigrazione hanno posto il mezzo navale a disposizione della procura che ne ha disposto previo sbarco dei migranti il trasferimento sotto scorta quindi diciamo nell'Avelina si dice che hanno sequestrato la nave l'hanno messa al porto e si fa notare quasi ecco vedete tra due virgole previo sbarco dei migranti quindi in diretta Salvini capisce che Padronaggio che è colui che rende noto procuratore questa notizia ha fatto un'altra volta diciamo di testa sua questa è una mia interpretazione e infatti vedete c'è un tweet che fa capire la situazione di questo signore che dice voglio vedere ogni sbarco in diretta è bellissima la sensazione feroce di Salvini di non contare niente così all'improvviso quindi ovviamente Salvini viene preso da questa decisione del procuratore letta in diretta così sotto banco e appunto dice vedete è una vecchia conoscenza infatti in diretta dice questo è il procuratore che mi ha indagato per sequestro di persona sottolinea Salvini prende atto sulle sue parole approfondiremo la possibilità di denunciarlo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina questa è tutta una vicenda molto particolare diciamo che per ora quello che ci sembra di capire appunto che le figure siano diverse coinvolte che appunto lo scandalo scoppierà sicuramente speriamo di avere adesso persone deputate e magistrati appunto che riescano a fare indagini sulla magistratura stessa e a tirare fuori la verità di chi muove i fili di tutte queste cose di tutti questi giri molto incasinati ho evitato anche di dirvi che lo stesso Palamara e lo stesso padronaggio sono anche coinvolti dove era in altre attività appunto che riguardano il fatto che loro sono proprio una squadra affiatata che mettono voce sulla anche diciamo sulla nomina degli altri magistrati nelle varie procure da Perugia a Roma e che poi appunto ecco come si vede qui diciamo sono molto interessati si dice qui anche alla verifica della commissione sulle indagini condotte dal PM Henry Woodcock sul caso Consip che come ricorderete avete coinvolto vede coinvolta la famiglia dell'ex premier Matteo Renzi molto interessate ecco anche come vi dicevo procura di Roma e Perugia insomma siamo qui a cercare di capire vediamo che sia in America sia in Italia nonostante ciò che alcuni polidori non riescano a vedere e continuino non so in quale da quale finestra si affacciano ma continuano a narrare storie su una realtà che ormai esiste solo su certi media per fortuna vediamo tante cose cambiare bisogna scovarle in piccoli articoli invitiamo la vera grande informazione anche televisiva e media a occupare le pagine con queste cose non solo con ciò di cui tratta la Barbara D'Urso ma magari anche con temi un po' più ecco anche magari difficili o non proprio divertenti ma che ci riportano con i piedi per terra a vedere la verità e a non farcela fare sempre sotto al naso questo passa nel processo di responsabilizzazione di comprensione di ognuno di noi proprio al fine di non essere manipolati anche noi come opinione pubblica tutto qua torniamo sicuramente presto con tantissime altre novità quindi un abbraccio e a presto come sempre alla prossima